Sabato 18 dicembre a Clusone in mattinata, festa del ringraziamento della protezione civile. Ad Ardesio dalle 21, Natale in contrada, esposizione allestimenti natalizi delle otto contrade del paese. Ad Albino dalle 15 alle 19, aspettando Natale d'Albino, presso Piazza Santuario di Desenzano. A Bossico, l'ore 21, cantata di Natale, recita le pervoci che cantano la pace presso la chiesa parrocchiale. Ad Alzano Lombardo alle 20 e 15, serata di arti marziali da combattimento con ospite Menard Chantale, campionessa mondiale di kickboxing presso il Palasport. Casnigo, ore 21, elevazione musicale natalizia del corpo musicale Angelo Guerini della corale Madonna Derby, presso l'Arci Presbiterale di San Giovanni Battista. A Clusone dalle 17 e 30, Natale dello Sportivo, con il ritrovo di tutte le società sportive in Piazza della Rocca. A Colzate alle ore 20 e 45, concerto di Natale con la banda presso la palestra. A Gorno alle ore 20 e 30, serata d'auguri 2010, presso la sala Arcobaleno. A Nembro alle ore 17, presentazione del libro di Paolo Aresi, L'amore ai tempi dei treni perduti, presso la biblioteca. A Gromo alle ore 18, Natale Alpino con Santa Messa presso la parrocchiale di Boario e cena a seguire. A Valgoglio alle ore 19, Natale Alpino con Santa Messa con la rete e cena presso la sede degli Alpini. A Parre alle ore 20 e 30, concerto natalizio dal colo filarmonico di Valle Sariana, presso la chiesa parrocchiale. A Gandino dalle 15 e 30, Natale a Gandino 2010, animazione itinerante con Babbo Natale. Domenica 19 dicembre a Gandino dalle 15 e 30, Natale a Gandino 2010. A Dardesio alle ore 17, inaugurazione della mostra fotografica Ricordi in piazza Moretto. A Doneta alle ore 20 e 30, concerto, musiche e natalizie presso la chiesa parrocchiale. A Castnigo dalle 9 e 30 alle 11 e 30, andiamo a conoscere Babbo Natale in piazza San Giovanni Battista. A Castione della Presolana alle ore 18, Natale dello Sportivo. A Cazzano Sant'Andrea alle ore 20 e 30, concerto di Natale della coro idica presso la parrocchiale. A Cene dalle 9 e 30, un magico Natale a Cene con mercatini per tutto il paese e pista di pattinaggio in piazza Municipio. A Gazzanica per tutta la giornata, in attesa del Natale 2010, nelle vie del centro. A Leffe dalle 10 alle 19, luce e colori di Natale con mercatini e animazione per le vie centrali del paese. Ad avviati, con le ore 14, pomeriggio dedicato agli anziani con giochi e merende in compagnia, presso la sede Ana Alpini in piazza Municipio. A Lovere dalle 8 e 30 alle 12, il 67esimo anniversario della fucilazione dei 13 martiri, con ritrovo e santa messa nella chiesa di San Giorgio.